Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornata al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Sabato 19 marzo, a Cassione della Presolana, in località Donico, Presolana Ski organizza la prima edizione dell'evento The Ski Splash per concludere la stagione invernale 2021-2022. Una competizione che consiste nell'attraversare con sci o snowboard una piscina lunga 10 metri. Per iscriversi basta inviare nome, cognome e data di nascita con un messaggio al 340 08 81 726. Martedì 22 marzo, a Nembro, continua la rassegna di incontri organizzati dal GAN e CAI Nembro in collaborazione con il Comune di Nembro, raccontarsi 2022, scalate, viaggi e sogni realizzati. Alle ore 21, presso la sede GAN in Via Nembrini, si terrà la serata Ptl, una piccola guerra. Il racconto di una delle gare di Rossana Moret, Roberta Orsenigo e Alida Fodon. Ingresso gratuito con obbligo Green Pass. Passiamo ora agli appuntamenti per scoprire le ricchezze naturalistiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche della Val Seriana e della Val di Scalve. Sabato 19 marzo, Promo Serio, in collaborazione con Michela Baretti, organizza ad onore una passeggiata in natura per papà e bimbi per festeggiare i papà, in uno spazio segreto di esplorazione, scoperta e storie piene di affetto. Ritrovo alle ore 15.30 presso il Parco Comunale di Via Sant'Antonio. Domenica 20 marzo, Promo Serio, in collaborazione con Vittorias Farm, organizza all'Effe una breve passeggiata nel bosco della Vittorias Farm per scoprire il mondo delle orme e degli animali. A seguire, in sala laboratorio riscaldata, realizzerete un calco in gesso dell'impronta del camoscio. Ritrovo alle ore 10 presso Vittorias Farm in Via Colombo 73 all'Effe. Raccomandati scarponi da montagna o scarponcini per la passeggiata nel bosco. Penultazione sul sito www.valseriana.eu sezione esperienze. Per ulteriori informazioni chiamate il numero 035 70 40 63. Per chi non usufrisse del servizio di prenotazione online, è possibile pagare anticipatamente la visita presso l'infopoint Valseriana e Valdiscalve a Ponte Nossa due giorni prima dell'uscita. Per questo appuntamento è tutto, vi ricordiamo che potete trovare maggiori informazioni su tutti gli eventi della settimana in Valseriana e in Valdiscalve sul portale www.valseriana.eu e prenotare le vostre esperienze direttamente dalla piattaforma online. Arrivederci e buona serata. Promo Serio Eventi Eventi e manifestazioni della settimana in Valseriana e Valdiscalve Grazie a tutti! Grazie a tutti!